Un ordigno esplosivo, probabilmente rudimentale, costruito con polvere pirica di quella utilizzata per i classici botti di capodanno, è quello che è stato lanciato stanotte, poco dopo la mezzanotte, all'interno del cortile della caserma dei Carabinieri di via Antonio da Sangallo. L'ordigno è stato lanciato da due persone su un motorino. Il mezzo ha imboccato l'ingresso del parcheggio della caserma Steger da via Sangallo, una volta giunto all'altezza in cui finisce il muro perimetrale della caserma dei Carabinieri di inizio all'inferriata è stato lanciato all'interno ed è esploso. Esplosione che poteva avere effetti devastanti perché è avvenuta vicinissimo al distributore di carburante per le auto dei militari dell'arma posta appunto dentro il cortile. Se lo avesse colpito le conseguenze sarebbero state inimmaginabili. Al vaglio degli stessi Carabinieri le immagini delle telecamere della caserma di via Dio Sorveglianza. Queste hanno appunto immortalato i due soggetti a cavallo del motorino che lanciano d'Ordigno ma a quanto pare non si riconoscono i volti. Sul caso è stata chiaramente aperta un'indagine da parte della Procura della Repubblica. L'episodio però è piuttosto inquietante perché arriva al termine di una lunga serie di attentati incendiari che ci sono stati su tutto il territorio soprattutto a Cerveteri Ladispoli su cui stanno appunto indagando i Carabinieri oltre a quello molto simile a quello di stanotte avvenuto un mese fa all'esterno del Tribunale.